Che oggi intessiamo anche col comune di Caffassi, io ti faccio omaggio di questi volumi che contengono quanto gli artisti hanno prodotto, alcuni artisti hanno prodotto sul lago di Iseo. L'immagine del lago di Iseo attraverso una serie di importanti mostri che abbiamo ottenuto al centro culturale L'Arsenale. Grazie di cuore. Grazie, grazie Sindaco, grazie a tutti, questo è l'inizio spero di un rapporto di amicizia che spero possa durare, almeno fino a quando finirà il nostro mandato perché abbiamo scoperto che finiremo insieme finalmente, tra due anni e mezzo. Non dire così, no, no, dico così. Grazie.